Cosa dici questa cosa? Conta più la vittoria alla fine. Conta il partito che abbiamo fatto, l'ultima partita, tutti concentrati, la fama. Ho sempre giocato la palla, anche in difficoltà. Questo è quello che vogliamo essere importantissimo, seguire quello che non ci dice in settimana. Era difficile entrare nelle maglie della moda? Era una difesa... Sì, non era facile, perché stavano sempre due centrali fissi fermi là, quindi erano sempre belli attenti. Poi i campi si aiutavano molto, quindi era molto dolore. Però sei riuscito a tenere bloccato i due centrali fissi? Vabbè, quello che devo fare è essere di percorrello. Quindi ti trovi bene come unica punta in questo... supportato dai tre di... Trovo benestira con una punta che altre punta... Certo, questo è la decisione mista, ovviamente. Io faccio solo quello che lui chiede di fare tutto qua. Io credo che... Io credo che... Io credo che... In seguito...